Baristi e fioristi furibondi per la Tares. Le tariffe della nuova tassa sui rifiuti approvate mercoledì sera dal Consiglio Comunale di Como riservano una raffica di aumenti. La batosta si abbatte soprattutto sulle famiglie che vivono in abitazioni di piccole o medie dimensioni e, per quanto riguarda le attività commerciali, su alcune categorie bar in primis. Per questi ultimi, secondo la simulazione diffusa ieri da Palazzo Cernezzi, la stangata è servita. Un locale di circa 100 metri quadrati vedrà un rincaro medio di 360 euro annui. Un ristorante della stessa metratura, al contrario, pagherà 500 euro in meno rispetto alla vecchia Tarsu. Mi sembra che siano state compiute scelte schizofreni che attacca Giovanni Ciceri, responsabile dei pubblici esercizi di confcommercio. Per i baristi si tratta di un rincaro inaccettabile. Chi riesce a tenere aperto un bar oggi con questa crisi è praticamente un eroe, aggiunge. I costi delle attività sono già altissimi e questo in asprimento della tassazione andrà ad aggravare un quadro già pesantissimo. Speriamo, conclude Ciceri, di essere contattati dall'amministrazione sulla portata del provvedimento. Anche i fioristi sono furibondi. La nostra categoria è tartassata dai costi di esercizio, commenta Maria Teresa Tagliabue, presidente del gruppo fioristi di confcommercio, e la Tares va a contribuire. Un fatto è certo, aggiunge, i nostri fioristi pagano somme eccessive rispetto ai rifiuti prodotti e qui bisogna intervenire. La vera questione insoluta che riguarda la categoria dei fioristi è la quota variabile della nuova tassa sui rifiuti. La Tares è infatti composta da una quota fissa e una variabile. Secondo quanto stabilito dalla normativa, per le utenze non domestiche e quindi anche per i negozi, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dall'ente locale. Il gruppo fioristi vorrebbe che tale coefficiente venisse applicato dai comuni e questo l'appello della categoria. Grazie a tutti.